Stanno per iniziare i lavori di restauro della resurrezione di Piero della Francesca. Il celebre affresco eseguito tra il 1450 e il 1463 circa e conservato nel Museo Civico di Sansepolcro ha rischiato grosso. Il tempo e la mancanza di fondi per cure adeguate hanno messo in pericolo l'integrità dell'opera. Ma dove non arriva lo Stato, arriva la filantropia. Sarà infatti Aldo Osti, ex dirigente della Buitoni, negli anni 60-70 e oggi imprenditore in Svizzera, a finanziare il ripristino del capolavoro di Piero con una donazione di 200.000 euro, equivalente a circa due anni di lavoro. L'imprenditore potrà seguire i progressi di persona grazie ad una piattaforma creata appositamente e tramite un'applicazione per smartphone. Ad inaugurare le attività di restauro sarà il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Ilaria Borletti Buitoni. Sarà lei l'ospite d'onore della conferenza stampa in programma per venerdì 21 novembre alle 12 presso la Sala della Resurrezione del Museo Civico di Sansepolcro. Ad intervenire, oltre al sottosegretario, saranno il sindaco Biturgenze Daniela Frullani, il soprintendente Agostino Bureca e la responsabile del team di restauro Cecilia Frosinini, direttrice del settore conservazione e dipinti murali presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze. Sarà presente inoltre il finanziatore dei lavori, Aldo Osti. A coordinare la conferenza sarà Mariangela Betti, direttore del Museo Civico di Sansepolcro. Lo scrittore Aldo Saxley definì l'opera Pierfrancescana la più bella pittura del mondo. Le sue parole salvarono Sansepolcro dal bombardamento dell'artiglieria alleata durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconta infatti il capitano britannico Anthony Clark che egli, ordinato il cannoneggiamento della città, nonostante i nemici si fossero già ritirati, interruppe il fuoco ricordandosi delle parole di Axley.